Sponsored by Costa Marina, case, vacanze, b&b e ristorante a Peschici Gargano Info 348 83 29 295 Costamarina Peschici.it Impresa Valassi Fermo e Franco L'arte di costruire e ristrutturare www.valassiff.it Trattoria Cantù dal 1897 all'Iporna 7 di Urginate Trattoriacantù.com Studio Dentistico Caponero Dottor Livio Sulla bocca di tutti caponerolivio.it Treva Home La tua casa vacanza sul lago di Como 340 22 45 235 trevahome.it Ad Arzignano Valchiampo si affrontano la formazione di casa e il lecco di Luciano Foschi in grande condizione dopo l'arrivo del tecnico che ha sostituito in panchina Tacchinardi due squadre di alta classifica finora 17 punti per il lecco 16 per l'Arzignano alla vigilia di questo match è proprio il lecco a dare in completa tenuta nera con i risvolti celesti la formazione blu celeste con questa terza divisa molto bella gioca il primo pallone poi prima azione offensiva dell'Arzignano un colpo di testa una mischia in area e non riesce a calciare in porta Grandolfo rischio subito pericolo nell'area dell'ecco l'azione prosegue ma non c'è più alcun pericolo per Melgrati non riesce a calciare Grandolfo trovando una selva di gambe davanti quarto minuto lecco in avanti con l'acti la centrocampista albanese che prova la conclusione che si abbassa sotto la traversa ci deve mettere il guantone volpe ma l'arbitro e il guardaline non ravvisano calcio d'angolo che invece c'è ci sarebbe e come ancora lecco che gioca un buonissimo primo tempo l'acti centralmente per Zambataro che pensa al tiro poi perde un tempo di gioco costretto ad avvicinarsi poi prova la conclusione viene murata poi il colpo di tacco di Scapuzzi ma gioco fermo rimessa laterale solo l'ecco per quanto riguarda le azioni offensive nel primo tempo a sinistra con il giovane Rossi il cross deviato prova Pinzauti ad arrotarsi su questa palla difficile col peso del corpo sbilanciato all'indietro palla fuori saranno però sorta di prove per quello che accadrà poco dopo dall'altra parte c'è l'azione dell'Arzignano con il cross dentro di Cariolato poi l'azione prosegue colpo di testa di Grandolfo alto si è alzata però la bandierina Arzignano ancora qualche istante più tardi con Parigi che serve ancora il compagno il numero 30 tardivo poi ancora Parigi mette dentro questo pallone una deviazione finisce a terra giocatore poi arriva la conclusione alta finisce a terra un giocatore dell'Arzignano ma non ci sono proteste brivido nell'area dell'Ecco separazioni un po' sporche quelle costruite dall'Arzignano l'Ecco che riesce a recuperare tanti palloni a centrocampo come in questo caso con Lacti scatenato Lacti va fino in fondo non calcia sceglie di andare sull'out poi mette dentro questo cross dolcissimo per Pinzauti che di testa realizza il suo terzo gol stagionale porta in vantaggio l'Ecco al minuto 24 l'Ecco meritatamente in vantaggio con il suo centravanti Lorenzo Pinzauti al terzo centro in stagione esultano i giocatori dell'Ecco grandi azioni di Lacti che perde un attimo l'abbrivio per calciare allora sceglie di andare fino in fondo poi però è dolcissimo il cross preciso per Pinzauti che incrocia bene sul palo lungo non può nulla Volpe 1-0 Ecco che insiste sono passati soltanto 26 minuti accade tanto in questa prima fase di partita ancora il pallone dentro per Lacti di Pinzauti Lactin spaccata per poco non trova il raddoppio vicino al palo l'Ecco scatenato 43esimo la transizione Scapuzzi Roval 1-1 viene murato da Molnar e chiede il rigore scintille tra i due rivediamo Molnar qui va a dare una spallata a Scapuzzi l'arbitro dice tutto regolare nella ripresa ancora Lacti dentro il pallone a cercare Pinzauti l'anticipo e poi arriva la conclusione con il destro alta ancora pericolo per la difesa dell'Arzignano 65esimo dal corner il cross dentro Battistini anticipato poi arriva la conclusione deviata ancora di Lacti anzi forse non c'è nemmeno deviazione in questo caso ci ha battato un po' il pallone posizione difficile palla che spioveva da molto in alto giudici entrato nella ripresa la parata di Volpe Buso e Giudici danno vivacità all'attacco dell'Ecco in questo secondo tempo 75esimo colpo di testa e poi l'azione che sfuma tremolada ci ha provato dagli sviluppi di calcio d'angolo altro corner molti calci piazzati Battistini va a svettare il difensore centrale dell'Ecco dal corner battuto magistralmente da Luca Giudici ed è 2-0 l'Ecco all'83esimo la scuola blu celeste mette in ghiacciare il risultato rivediamo il corner Battistini prende il tempo a tutti e va a incrociare nulla può Volpe sicurezza Battistini ormai non solo in fase difensiva ma anche quando c'è da andare a saltare su queste palle inattive sempre pericoloso realizza un gol preziosissimo la deviazione dello stesso Battistini qui sul cross involontaria con la schiena Melgrati accompagna fuori Dudu Mangni anche lui è entrato dalla panchina perde il pallone siamo al 93esimo Larzignano prova a chiudere in avanti c'è questa azione tremolata viene trattenuto poi alleggerisce per la conclusione di un compagno ma preciso e tempista Melgrati non si fa sorprendere e la partita finisce qui al 94esimo su questo rinvio di giudici Lecco batte 2 a 0 Larzignano è complice il pareggio casalingo del Renate assapora la vetta della classifica del girone A di serie C da solo in testa a quota 20 punti